buonasera a tutti bentrovati da parte dell'ufficio catechistico della diocesi di roma bentrovati a tutti per questo nostro sesto incontro sul corso di formazione permanente che abbiamo fin qui svolto sul tema della preghiera incontro conclusivo del ciclo degli incontri online perché il sesto incontro ma l'ultimo incontro si svolgerà come sapete e per chi ha dato l'adesione sabato prossimo il 18 marzo al monastero dei santi quattro coronati dalle ore 10 alle ore 12 e 30 circa bene detto questo lascio la parola a don andrea per introdurci nell'ultimo incontro e poi a sorfuglia buonasera a tutti ben trovati mi fa piacere di introdurre questo incontro che come diceva domenico è l'ultimo di questa serie di appuntamenti online che abbiamo avuto come considerare questi appuntamenti rispetto al tema della preghiera beh ovviamente una introduzione tutti i temi avete visto sono stati introdotti ogni ogni incontro aveva come come ci diceva sorfuglia una parola chiave e quindi affrontava un tema particolare della preghiera ma su ciascuno di questi temi uno potrebbe rimanere molto molto più a lungo quindi considerate ciascuno di questi incontri come una introduzione a un aspetto della preghiera e non non considerateli come una non so un una trattazione che esaurisce il tema in nessun modo perché il tema della preghiera in fondo è il tema della vita cristiana e quindi è inesauribile no ed è anche una di quelle cose che forse lo dicevamo al principio si impara tante volte nella vita perché la preghiera cambia nella vita come cambia tutto il resto cambia cambia tutto non è la nostra vita nel procedere degli anni cambia la nostra fede cambia il nostro rapporto con gli altri così cambia anche il modo di pregare ma questi che stiamo toccando insieme con surfulvia grazie a surfulvia sono alcuni aspetti fondamentali che pur nel mutare degli anni però restano un po sempre sempre gli stessi per dire il la parola di dio comunque resta una fonte della della preghiera in ogni momento della vita la comunità comunque resta il riferimento della preghiera in ogni momento della vita anche se la preghiera poi cambia e quindi va sempre reimparata bene dunque ringrazio ancora una volta surfulvia per questo servizio bello che ci sta facendo e lascio a lei la parola per l'incontro di questa sera che come vedete ha come titolo i nemici della preghiera grazie donna andrea grazie e sì ecco la premessa a questo incontro è proprio mi hai tolto le parole di bocca volevo dire che eh riflettevo e ci siamo anche confrontati su cosa sarebbe stato opportuno dire in quest'ultimo appuntamento ora è chiaro che mancano moltissime cose anche importanti e quindi sì non possiamo considerare queste questi piccoli incontri come esaustivi su un tema così vasto e plurisecolare della della preghiera e quindi della nostra vita e io così ho detto sono riuscita nel spero semplicemente a dire qualcosa eh che ho dovuto scegliere fra le molte da dire eh però è chiaro che si sarebbe potuto andare avanti ancora a lungo e questa sera rispondendo anche ad alcune delle domande che mi sono sono arrivate anche in comunità eh qui da noi per le attraverso la posta elettronica eh ho scelto un po' di condensare eh quelli che molti avvertono e avvertiamo quasi tutti come ostacoli alla preghiera come nemici della preghiera e soprattutto le domande che mi sono state rivolte eh speravano credo di trovare una risposta eh compiuta e puntuale eh per liberarsi definitivamente degli ostacoli e dei nemici della preghiera. L'annuncio di questa sera è che ehm in virtù del nostro battesimo e quindi della nostra appartenenza a Cristo eh noi come Gesù abbiamo dei nemici cioè non possiamo vivere la vita cristiana in modo ingenuo credendo che ehm e questo lo sappiamo siamo tutti adulti e credendo che mh ecco il nemico è sconfitto una volta e per sempre no? Ci sono queste mh colpi di coda del demonio nella storia che ehm tocca a noi affrontare colpiscono anche noi la nostra vita come nella piccola e nella grande storia eh nel grande gioco della vita e eh nella storia dell'umanità. Eh per cui ecco liberandoci così da una visione un po' infantile ehm naif della preghiera eh gli stessi padri della chiesa ci hanno consegnato appunto la eh così l'espressione ormai eh nota piuttosto eh a volte anche confusa con molto altro del combattimento spirituale ecco questa sera vorrei parlare con voi di questo di questo agone cioè di questa lotta che riguarda la vita mh cristiana e quindi la vita della di preghiera. Ho messo delle piccole citazioni introduttive oltre a questa immagine che mi piace moltissimo eh che evoca San Giorgio che sconfigge il drago e e mi insomma mi piaceva proprio come impatto ma eccovi eh per levarci subito di dosso una uno sguardo ingenuo eh incontriamo subito alcune considerazioni di ehm santi o meno santi insomma ma comunque di persone che hanno riflettuto su questo ecco già Dostoievski ci regala delle piccole espressioni il diavolo combatte con Dio tuttora e ancora il campo di battaglia è il cuore dell'uomo ecco chi eh di noi può sentirsi fuori da questo combattimento credo nessuno di noi e il luogo in particolare di di questo combattimento di questa battaglia è il cuore noi già sappiamo che il cuore è il luogo della preghiera per cui questo campo di battaglia è proprio eh la preghiera e immediatamente appena l'uomo ehm vuole mettersi a pregare è il momento in cui i suoi nemici si sforzano di impedirglielo ecco molti eh di voi anche nelle conversazioni che abbiamo avuto no mi mi chiedevano e mi dicevano ma come mai appena comincio appena mi siedo per subito eh iniziano grandi combattimenti e basta mi scoraggio e non prego più ecco sono eh questi nemici che si sforzano di impedirci di pregare la preghiera esige una lotta fino all'ultimo respiro questo è Santa Gatone uno dei primi papi e il demonio il demone è terribilmente geloso dell'uomo che prega e impiega tutti i mezzi per fargli mancare il suo scopo evaglio il pontico lo scopo dell'uomo lo scopo del cristiano è questa unione con Dio questo desiderio di stare dentro questa relazione ecco abbiamo un nemico e questo nemico non si manifesta così in modi almeno nell'ordine di età in modi visibili in modi eh così troppo anche troppo manifesti oggi eh parlando dei nemici della preghiera e affrontando il tema del combattimento spirituale eh cercheremo di vedere le piccole eh manifestazioni eh di questi nemici dentro il terreno eh così delicato e insieme anche impervio eh della preghiera ecco ehm il combattimento spirituale ci riporta immediatamente a questa dimensione di lotta ehm che eh ci riguarda tutti eh come comunità abbiamo detto e personalmente allora Angela da Foligno che è una mistica del Medioevo ci dice subito guardati bene da lasciarti prendere dal nemico che è sempre in agguato e San Pietro ci ricorda il demonio come leone ruggente va in giro cercando chi divorare ora tu gli lascerai l'entrata libera quando cesserai di pregare ecco questa questa donna questa santa subito ci insegna che la vera arma contro il nemico è proprio la preghiera più tu sei tentato più devi perseverare nella preghiera vedremo che cos'è questa perseveranza è la virtù della preghiera che ti ottiene la grazia di trionfare sulla tentazione virtù sappiamo che è questo abito che vedremo eh ha delle caratteristiche particolari allora ehm direi di affrontare subito eh così questo elenco che ho voluto riportarvi non per ordine di importanza ma mh così quasi casuale come si manifesta nella nostra preghiera eh questi nemici come si manifestano e che cosa accade potremmo dire ogni volta che preghiamo ecco allora eh da prima e questo già risponde a diverse delle vostre domande eh un nemico eh della preghiera sono le distrazioni già se vi ricordate nel testo che vi avevamo suggerito per la preghiera che abbiamo condiviso qui insieme in basilica vi avevamo riportato eh un testo di Don Luigi Verdi eh che eh ci ricordava come la prima fatica della preghiera è il disordine della mente il disordine della vita che facciamo lui diceva che se non inizi mai una via spirituale di preghiera non ti accorgi nemmeno del disordine che hai dentro vivi di impressioni di rumori di cose ecco la lotta contro il disordine della mente è l'inizio dell'abbandonarsi a Dio le distrazioni sono quel chiacchiericcio mentale che disturba proprio nel momento in cui vorremmo stare alla presenza del Signore con un cuore libero attento raccolto invece eh siamo travolti da questo flusso in interrotto dei nostri pensieri che ehm ci sorprendono spesso per la loro banalità ecco la il nemico nelle distrazioni si manifesta eh molto banale quasi ridicolo eh ci fa mh preda delle immaginazioni più strane molte volte sono distrazioni inutili ehm che ehm appaiono alla nostra mente la usate spesso e ormai dall'iperconnessione cui tutti siamo sottoposti quindi da un'iperstimolazione dell'immaginazione e eh se non questo non accade a voi accade ai giovani a cui vi rivolgete quindi vi ricordate già parlavamo della mutazione antropologica di questa incapacità eh sempre più manifesta nei giovani di rimanere in silenzio di imparare il raccoglimento di avere una certa pulizia nei pensieri ecco molte di queste distrazioni sono involontarie semplicemente accadono e il tempo della preghiera passa senza che neppure ci si accorga semplicemente siamo magari seduti al nostro posto siamo eh per me sono nel coro con le monache ma sono eh altrove ecco eh per non accusare sempre qualcuno fuori di noi dobbiamo uscire dall'illusione ognuno di noi prega come vive come così come sei così ti troverai nella tua preghiera molto spesso chi è distratto cioè chi è preda delle distrazioni nel pregare è semplicemente disordinato nel vivere ehm il disordine esteriore quello degli ambienti di vita di lavoro della cucina della macchina no? Ehm tradisce è un segno di un disordine interiore cioè di una incapacità di dare uno spazio proporzionato ad ogni cosa di prendere le misure anche del proprio ingombro personale e quindi anche un disordine nel gestire il proprio tempo talvolta e già vi suggerivo eh pregare in un luogo predisposto e ordinato essenziale non è indifferente al raccoglimento specie agli inizi del cammino ci si distrae soprattutto perché non si è abituati a pregare l'abitudine però la dobbiamo intendere nel nell'accezione nel tono più nobile che fa riferimento viene dalla parola abitus abito qualcosa che indossi come una seconda pelle nella quale stai comoda nella quale puoi rilassarti questa abitudine finché non la possediamo non ci sta addosso non ci calza ehm ci in qualche modo lo penalizza rimaniamo ad abitare in questo stato d'animo caotico che permane con noi tutto il tempo della preghiera e quindi avvertiamo una fastigiosa dispersione come se ci fosse un vagabondaggio dell'anima dei pensieri in cose che eh paradossalmente sembrano interessarci più di Dio ecco talvolta queste distrazioni seppure involontarie dipendono proprio da questa incapacità di stare e molte di queste molte di queste distrazioni inoltre sono dovute oltre a un disordine esteriore anche ad una sorta di irregolarità dei tempi che sono dedicati alla preghiera anche questo è molto importante se tu non dai alla tua giornata un ordine eh sapiente un ordine spirituale il cumulo delle attività e di tutta la frenesia che ci portiamo dentro durante la giornata e ci impedirà e si opporrà al nostro desiderio di pregare soprattutto eh questo ci accade quando siamo dentro una forte tensione perché magari eh stiamo puntando ad un risultato in uno dei nostri lavori in una delle nostre attività la distrazione è ancora più forte se non abbiamo eh ordinato secondo delle priorità e se non abbiamo collocato in quel momento di tempo eh lo spazio per la preghiera ecco ehm ci daremo moltissimi alibi non ci daremo mai il permesso di fermarci perché abbiamo un senso del dovere una laboriosità i lavori in famiglia la responsabilità cioè mh ecco avremo molte molte scuse il problema è questo ehm perché è importante sconfiggere le distrazioni perché la preghiera seppure io la faccio ogni giorno ma è distratta cioè attratta altrove eh mi risulterà pesante e non andrò molto avanti è un nemico da sconfiggere perché ehm mi induce a sospendere questo colloquio perché non la troverò interessante perché sarò sempre portata via allora questa eh folla di pensieri che si accumulano e ci dicono che eh va bene forse questo non è il momento propizio e rinveremo un'altra volta attendendo un momento che non arriverà mai perché saremo sempre dentro questo circuito di pensieri allora come combattere perché eh abbiamo un nemico va combattuto allora eh intanto eh è importantissimo ricordare che eh il Signore conosce e accetta le nostre instabilità gli dà molta meno importanza di quanta gliene diamo noi eh Santa Teresa Davila chiamava questa instabilità questa fantasia durante la preghiera la pazza di casa mia quella pazza che va lasciata muoversi e agire in modo quasi selvaggio perché se la contiene è quasi peggio allora l'arma dei padri della chiesa dei padri del monachesimo che ci suggeriscono come tutte quelle che servono al combattimento spirituale è semplice e si chiama attenzione che è la grande dimenticata di questo tempo diceva padre Antonio il grande bada a te stesso bada non nel senso ripiegati su te stesso in questo modo eh un po' intimistico rivolto verso se stessi no ma stai attento a dove sei a quello che dici e a quello che risuona nel tuo cuore eh questo questa parola di Dio ogni nemico ha una parola di Dio con cui eh si può rispondere eh sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui ci suggeriscono i padri che significa questa attenzione su tre livelli diversi l'attenzione alla parola nella preghiera la parola pronunciata cantata ascoltata aiuta l'attenzione quando vi dicevo la volta scorsa che eh quando leggete un testo di Vangelo leggetelo a mezza voce ascoltatevi mentre lo leggete leggete con calma la voce aiuta la concentrazione così come la mente questa seconda livello di attenzione da avere la mente può essere educata a rimanere noi molte volte eh crediamo che non abbiamo un potere spirituale sulle nostre energie spirituali non è così allora la voce ci aiuta e la mente eh piano piano può essere aiutata a rimanere laddove è là su quel testo che stiamo leggendo là su quella immagine che stiamo guardando e poi finalmente il cuore l'attenzione del cuore che ehm i padri ci dicono che appunto deve essere sempre eh continuamente richiamato a rimanere sveglio e vivo alla presenza di Dio questo tre questi tre livelli di attenzione eh aiutati dalla parola sta in silenzio davanti al Signore cerca questo silenzio davanti al Signore e spera in Lui non è una cosa di un momento e non si fa una volta per tutte ma si deve fare tutte le volte tutte le volte accedere alla preghiera non è mai immediato non è mai risoluto ehm è sempre una sfida ma se noi sappiamo chi stiamo sfidando abbiamo già ehm siamo già un passo avanti abbiamo già un vantaggio sul nemico perché non ci sorprenderà molte volte ci lasciamo sorprendere le distrazioni iniziamo a pregare stiamo a pensare alla pasta che dobbiamo cuocere dopo a che cosa faremo per cena a quanto sono stanca e mi fanno male i piedi allora eh un secondo nemico vado velocemente se no non arriviamo in fondo ce lo suggerisce già Gesù nel Vangelo che abbiamo proclamato la volta scorsa sono le preoccupazioni non preoccupatevi è uno dei ritornelli più noti del Vangelo una delle parole con le quali eh Gesù ci invita eh più frequentemente alla serena ad una serena fiducia verso il padre chi si preoccupa ehm diciamo così che toglie alle sue occupazioni preziose energie preoccuparsi significa occuparsi prima occuparsi pre prima che il fatto accada tu sei già in ansia tu sei già in agitazione e la preoccupazione infatti qual è la sua eh il pensiero collegato alla preoccupazione che cerca di convincerti che sono le prestazioni umane le performance che le cose che facciamo a guadagnarci la salvezza metterci al sicuro da eh qualcosa che potrebbe andare storto ecco perché le preoccupazioni sono ostacolo e nemiche della preghiera perché e questo è un fatto serio eh ci strappano la nostra identità che eh abbiamo già detto eh quella più vera è di essere figli e di essere figli amati il vero frutto che è anche il vero obiettivo della preghiera ma che è anche la vera premessa e quindi anche l'ultimo scopo è questo è ricordarci che siamo figli ricollocarci nell'esistenza dentro una figliolanza sicura ehm rassicurante provvidente ecco le preoccupazioni ci fanno ci travolgono no molte volte lo sentiamo che salgono dalla gola ci fanno dimenticare che la salvezza viene da dio dalla nostra relazione con lui eh che è padre provvidente ehm l'unico motivo lo abbiamo già detto per il quale possiamo e vogliamo pregare è che siamo figli che si rivolgono al padre per mezzo di Gesù il Vangelo ci ricorda questo nell'episodio che ehm vede le due sorelle di Lazzaro Marta e Maria coinvolte in una conversazione piuttosto agitata con con Gesù e le parole veramente sono pronunciate solo da Marta ma ehm le conosciamo come una rivendicazione eh di Marta che viene corretta amabilmente da Gesù lei si preoccupa di servirlo bene si preoccupa a tal punto ed è paradigmatico per noi capire questo si preoccupa a tal punto che in tutta la sua agitazione rischia di rendere vuota la sua stessa ospitalità perché rischia di non incontrare il suo ospite ecco la preoccupazione e che ci le preoccupazioni che ci abitano che abitano la nostra natura rischiano manifestandosi e sovrapponendosi alla preghiera rischiano di non farci vivere l'incontro con il Signore e di non farci affidare al Padre ecco la nostra eh noi siamo come Marta no? La nostra natura ma più di tutto la nostra cultura ehm oggi più che mai ed è anche giusto ma si fonda sui diritti noi adesso abbiamo diritto a tutto e anche nella fede noi viviamo come Marta cioè portiamo avanti le nostre rivendicazioni il problema è che io ho detto le preghiere per te ti ho servito ho offerto se sono stata brava oppure digiunato non sono come gli altri diceva il fariseo al Tempio insieme al pubblicano che invece pregava in altro modo no? E di nuovo la preoccupazione ci strappa dal regalo che vuole farci Dio di esserci padre ecco come ehm come combattere no? Perché noi conosciamo nelle nostre preoccupazioni una certa ragionevolezza cioè ci sono molte cose che agitano il nostro cuore perché conosciamo storie abbiamo delle sofferenze siamo preoccupate forse per i nostri figli eh viviamo delle angustie le nostre preoccupazioni non sono inventate eh non sto dicendo questo sono ragionevoli come però eh viverle come combatterle eh perché non siano loro al posto della preghiera loro al posto della relazione ecco la parola ci dice eh una delle parole ci dice questo gettate su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi allora siediti prenditi del tempo entra in una chiesa quando vai a fare la spesa non lo so e racconta al signore le tue fatiche le tue difficoltà il problema è o meglio il nodo è proprio questo cioè accettare di viverle con lui non di eliminarle probabilmente i fatti di cronaca che ehm si succedono nella nostra vita non cambiano non cambieranno ma ehm avremo e le potremo vivere illuminati dalla preghiera da questa relazione eh filiale e affidata al padre non svaniranno in un momento le nostre preoccupazioni ehm un altro nemico della nostra preghiera è l'aridità ora molti esasperano questo aspetto no? Mi dicono che stanno vivendo la notte oscura della fede in realtà eh spesso siamo consegnati ehm ad una sorta di apatia quasi di noia di disinteresse che provoca ci provoca una resistenza interiore alla preghiera l'aridità di per sé ehm non impedisce di pregare semplicemente si tratta però di una perdita aspetto chiudere la una perdita di gusto della preghiera una eh come se sparissero improvvisamente tutte le sensazioni legate alla preghiera la parola iniziamo a viverla da prima in modo rutinario calma piatta poi diventa inodore insapore e finalmente senza alcuna attrattiva perdere il gusto questo questa terra secca che non sembra non ricevere né acqua né ruggiata dalla preghiera allora è un cibo amaro questo tempo che si può eh o questo questo nemico che ci si presenta eh perché ci è tolto ogni dolcezza ci convince che ehm la menzogna che porta con sé questo nemico è che il fatto di non gustare significhi non pregare non stare veramente dentro la relazione non sento niente e quindi ci fa smettere di pregare allora io credo che mh questa eh questo nemico ehm di questo nemico ne siano esperti tutti coloro che decidono nella loro vita di vivere una relazione duratura nell'amore no? Cioè laddove proprio è l'aridità il tempo della fedeltà come accade a noi che preghiamo non tutti i giorni abbiamo il medesimo desiderio il medesimo slancio il gusto della preghiera non tutti i giorni il Vangelo del giorno mi dice quella cosa sensazionale che mi accende il cuore eppure sono chiamata a pregare sono chiamata a rimanere allora come combattere? Intanto ehm questa apatia cioè o meglio questa noia questo eh questo arido che sentiamo in bocca questo asciutto è una chiamata ehm per dire così è una chiamata alla vita adulta la vita adulta è quella che ci fa fare un passaggio fondamentale che è quello di non vivere più per ciò che sentiamo ma vivere per ciò che crediamo non è più come gli adolescenti la nostra preghiera una preghiera che vive per quello che sente ma noi viviamo per quello che crediamo così è nell'amore credo che il matrimonio e credo nel mio matrimonio è tutto ciò che mi ha portato a sceglierlo quindi posso attraversare un tempo di aridità di mancanza di gusto perché resto fedele a ciò che credo e a ciò che ho creduto e non tanto a ciò che sento nel momento presente ecco è come se eh questa eredità si presentasse più come un guado come uno spazio eh da attraversare e ehm la parola ci invita ehm con la quale ci invita Gesù con la vostra perseveranza a salvere delle vostre anime allora perseverare qui nel verbo greco che viene utilizzato traduce ehm un verbo che significa ehm perché perseverare per noi ha a che fare un po' con una forza muscolare di resistere ehm qui traduce male un una posizione che è piuttosto quella di stare sotto di ranicchiarsi ecco col col vostro rimanere là sotto rannicchiati raccolti salverete le vostre anime ecco non si tratta più di eh di una forza da esercitare con resistenza in apnea quanto piuttosto di una resa di una di un arrendersi a un tempo che può non essere gustoso in virtù di ciò che abbiamo creduto ecco la un altro eh nemico ehm è la mollezza mi piaceva l'immagine di questa eh ragazza svogliata e la mollezza in questo è questo modo tiepido di stare nella vita hm e quindi anche nella prechiera nella relazione con Dio questo modo è contestato apertamente dalla scrittura ricordate eh certamente le parole tra le parole più severe più impressionanti della scrittura in Apocalisse eh perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo sto per vomitarti dalla mia bocca un'espressione così cruda che ehm ci colpisce sempre no quando la ascoltiamo accade infatti che eh siamo indolenti e l'indolenza questa mollezza questa pigrizia eh è un nemico della preghiera che abbiamo detto prevede un combattimento un'attenzione quindi eh questa resistenza eh che abbiamo a fare fatica ci fa perdere la voglia di leggere di pensare di leggere la parola di Dio di fare questa fatica per entrare nel silenzio di mettere in ordine ecco qui non solo la mente distratta e non solo non riceviamo il gusto della preghiera ma è proprio il cuore che assente come se non desiderasse più un incontro con Dio a differenza diciamo dell'aridità che intacca l'aspetto sensibile della preghiera ma conserva il desiderio di rimanere di pregare eh questa mollezza questa tiepidezza è più pericolosa perché intacca la volontà eh l'uomo vorrebbe pregare ma gliene mancano le forze la volontà e anche il desiderio che abbiamo detto essere la vera sorgente della preghiera ecco il desiderio si affievolisce ehm il molle il pigro verso il quale la scrittura ha delle parole altrettanto severe ehm si trova infelice ecco questa sorta di eh pigrizia ehm ti mette nell'infelicità nella tristezza eh e l'inganno la menzogna che porta con sé è che ehm ti domandi come mai non ho più quel fuoco che Dio aveva acceso in me un tempo allora tutto svanito nel nulla il cammino di fede che ho fatto non era sincero sono preda di un'illusione e non valevano la pena tutti i miei sforzi sono tornata indietro è un po' come quando devi decidere di di dimagrire no? Che eh tanto ti sembra che non cambi mai niente vabbè comincio domani vabbè era un altro giorno vabbè ma oggi c'è il dolce c'è questa sorta di indolenza il demonio ecco raggirandoci facendoci affondare in questo divano eh proprio nell'ora in cui avevamo deciso di pregare ha ottenuto il suo scopo che è sempre lo stesso sempre lo stesso scopo tenerci lontani dalla relazione con Dio ecco che la mollezza è un nemico eh che come si può combattere come si può vincere ehm qui ecco forse più che eh con gli altri nemici qui si manifesta proprio l'arte della preghiera cioè quella possibilità che viene dallo spirito di accettare eh di dover trovare un equilibrio tra la libertà e la grazia perché noi siamo liberi di rimanere affossati su quel divano oppure liberi di muoverci perché non siamo privati delle forze tantomeno delle forze spirituali ecco Agostino sintetizza tutto questo dicendo che Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te eh tutto dipende da Dio e nulla noi possiamo senza di lui eppure noi abbiamo la nostra parte nel gioco eppure tocca a te tocca a me la vita cristiana eh ci chiama ad accogliere il dono di una terra eh la terra promessa appunto no quella che ehm è donata perché sia casa e custodia perché sia luogo di benedizione di fecondità è una terra che però eh conosciamo nella storia di Israele seppure è promessa e regalata è poi tutta da conquistare quando Israele arriva eh nella terra ehm nella terra promessa la la trova abitata super popolata ci sono gli evei jebbusei gli titi non so chi altro quindi eh se la deve conquistare allora mh il dono della preghiera è anche una conquista il dono è anche un compito c'è la parte nostra ecco che eh con San Paolo no diremmo noi per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di tutti loro allora hai faticato o c'era la grazia? Allora mh qui veramente l'arte della preghiera è proprio dentro questo equilibrio che ci chiede una fatica e accoglie la grazia la parola eh che è eh dalla lettera ai romani otto chi ci separerà dall'amore di Cristo basterebbe bastava questo versetto per i padri vi ho aggiunto sarà forse la tribolazione l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada tutte cose che ci frenano ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati noi vinciamo ma è lui che ci ha amati è lui che ha vinto per noi allora è difficile eh ma la parte nostra è da mettere in gioco poi ehm le ultime gli ultimi nemici acerrimi le seduzioni diceva un Cleman che è un laico ortodosso è sposato con figli un teologo interessantissimo lui diceva che parlare delle seduzioni nell'ambito della preghiera diventa interessante illuminante perché fa capire come le grandi tentazioni quelle vere non sono quelle che ci saremo aspettate eh quelle ad esempio che riguardano la sfera sessuale non sono quelle le grandi tentazioni ma sono quelle che vanno a demolire la fede soprattutto nei tempi di eredità nei tempi di fatica eh quando la nostra vita è attraversata da dei dolori eh il demonio ci mette subito di fronte a un'esposizione mh dei suoi attacchi e il nostro pensiero può arrivare spesso a dubitare di Dio a mettere dentro questa relazione un dubbio un tumulto interiore avvertiamo tristezza ribellione sentiamo che ci sono sfide più grandi di noi e si manifestano ai nostri occhi delle le fantasticherie più impure che non avremmo mai pensato di neanche di immaginare ecco il maestro della menzogna il demonio ci insinua il sospetto che tutto sia stato vano che ora saremo preda di queste seduzioni che ci porteranno via e ci dice che siamo ridicoli ci ci insinua il sospetto su tutta la nostra vita di fede e eh l'anima si abbilisce come combattere ecco qui la preghiera più è semplice più ci aiuta nella lotta eh di fronte alle tentazioni alle seduzioni del maligno la parola è una sola i padri ci insegnano il nome di Gesù la preghiera del nome eh il nome di Gesù ripetuto e scaldato tra le labbra eh Gesù figlio di Davide abbi pietà di me invocare il nome di Gesù e con il nome evocarne la sua presenza nella nostra vita è trovare in lui un compagno un amico un confidente e la tentazione con la sua seduzione con la seduzione che porta con sé diventa un'occasione la rigiriamo contro il nemico perché per noi diventa un'occasione per stare alla presenza di Gesù e invocarne la forza è Cristo che lotta in te e per te e la vittoria è la sua però poi anche la tua perché lui ha già vinto ecco a te a me non resta che affidarci alla potenza di questo nome io non so voi come reagite quando i vostri figli i vostri nipoti hanno ad esempio degli incubi nella notte ecco aiutarli a pregare a chiamare Gesù accanto succede no succede io mi sveglio di colpo e sento il bisogno di dover invocare una presenza eh pacifica e amante e poi la fuga la fuga fa appello a un istinto eh primordiale che è quello di chi vorrebbe eh di noi che vorremmo essere portati via da ciò che viviamo ecco eh convincendoci dell'illusione che altrove si stia meglio e questo altrove eh a volte diventa proprio la preghiera è strano ma eh c'è qualcuno di noi che nella preghiera trova questo spazio altro eh nel quale fuggire eh separarsi dal reale dai problemi dagli affetti ehm dalle situazioni difficili che ci chiedono energie la preghiera soprattutto e qui non vorrei offendere nessuno però soprattutto quella che si nutre delle devozioni delle più curiose eh può diventare eh il luogo del nostro stare fuori o al di sopra della realtà eh qui lo voglio dire perché ehm dilagano questi rosari infiniti coroncine varie devozioni a santi e sante che mh secondo noi esigerebbero dei culti esclusivi impegnativi ecco eh non voglio banalizzare ma è importante fare attenzione a questo nemico eh che ehm può prenderci il tempo con le preghiere e toglierci dalla preghiera e non è banale soprattutto con l'avanzare dell'età questa tentazione mi accorgo che è sempre più presente nelle persone più grandi forse hanno ragione non lo so un giorno scopriremo che tutto è rovesciato e intanto però mh credo questo ecco che eh ci sono queste mh ci sono delle vocazioni chiare cioè tu sei una mamma sei una moglie sei un papà sei un nonno non lo so se eh la preghiera ti porta via da questa vocazione ecco stai sbagliando strada è una fuga la parola è chiara e ci dice che la realtà è di Cristo o meglio con la traduzione che preferivo la realtà è di è di Cristo è Cristo cioè se fuggi dalla tua realtà pur pregando non incontrerai Cristo che invece è lì nella realtà ad aspettarti ecco se per recitare le preghiere di Santa Brigida per dodici anni di seguito interrotti stressi tuo marito lascia i tuoi figli ecco non stai pregando stai alimentando una fuga eh dalla tua realtà che certamente Santa Brigida non può approvare ecco io con tutto rispetto ma eh questo è molto importante ecco e l'ultima don Andrea permettimi di dirla eh è la tentazione delle tentazioni il nemico dei nemici ehm in senso superlativo come dice la scrittura la ripetizione no? Il perfezionismo allora che cos'è? È questo modo subdolo insieme molto ragionevole di prendere possesso della tua preghiera tu fai il corso in vicariato tu rispetti le regole c'hai tutto il mio e il tuo perbenismo cattolico siamo bravissime ecco il nemico della preghiera quello che toglie il trono a Dio perché ci possiamo sedere noi al centro tutti noi nutriamo delle aspettative sulla preghiera crediamo che basti applicarci in modo corretto e tutto funzionerà e per questo credo anche che molti avete domandato un metodo che siete preoccupati delle distrazioni che volete sapere quello che ho detto finora come si combattono i nemici e mentre tutto è utile ma eh ciò che basta alla preghiera è che è una relazione che accade eh è un incontro che per essere un incontro vivo tra vivi mh dopo qualche regola di buona educazione è lasciato ai protagonisti del del caso lo spirito santo e noi lo spirito santo e la tua anima mh ecco questo è il nemico più fastidioso da combattere nella chiesa è un nemico ferocissimo e il nostro perfezionismo viene dall'abitudine eh o meglio dal vizio potremmo dire che abbiamo di giudicare tutte le cose di valutare tutto di dire la nostra su tutto di ritenerci esperti su tutto perché sappiamo due o tre cose messe in croce ecco il maestro è uno solo e a Cristo e io credo che per pregare dobbiamo fare spesso a meno di noi stessi dobbiamo rinunciare le nostre intenzioni e abbandonarci allo spirito santo tutti gli sforzi tutti i metodi alla fine si rivelano inutili interessanti possiamo cominciare e poi finalmente scopri che lo spirito è più grande di tutto questo se stai dentro questa relazione se offri allo spirito di Gesù una possibilità di abitare con te e è più semplice come dicevamo all'inizio cioè con il nemico dei nemici che a questo si combatte con un'arma sola l'umiltà Gesù di sé dice questo no imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita e questa è un'illusione da cui ci in cui ci colloca la nostra superbia di avere tutto sotto controllo e finalmente l'umiltà e sbaraglia tutto e ci ricolloca nell'esistenza di figli che tutto devono ricevere dal padre allora quest'ultima immagine che vi ho messo con questa frase ormai celebre less is more per concludere anche se poi ci vedremo sabato per dirvi che a volte e adesso io lo dico poi tutto il vicariato non mi chiamerà mai più ma il meno è meglio si traduce così ecco meno fai e più ti disponi a stare alla presenza di dio meno fai meno stai lì a decidere cosa devi fare un passetto poi l'altro fase uno fase due e più ti abbandoni ecco questo ehm detta così è sempre perché non possiamo essere completi nel discorso però è un consiglio che vi do eh affidatevi a dei maestri parlate con il confessore padri spirituali eh fatevi guidare sì nella preghiera ma ricordatevi che ognuno di noi ehm ha il il luogo della preghiera lo porta dentro di sé il luogo della relazione e ci abita già dobbiamo solo scoprire eh chi c'è dentro e e questa è proprio un'arte dai maestri ci si va per imparare la tecnica e poi l'arte è affidata al discepolo bene cinque minuti in più scusate Grazie Sor Fulvia. Bene allora rinnoviamo il nostro grazie a Sor Fulvia e a tutta la sua comunità che l'ha aiutata e sostenuta anche in in questi incontri e che lei più volte ci ha fatto presente spero allora di che ci possiamo vedere sabato mattina ai Santi Quattro. Quanti sarete sabato? Eh? Quanti sarete lo sappiamo? Eh lo sanno i nostri. La volta scorsa pressa poco sulle duecento adesioni. Ok. Va bene. Va bene. Se con qualcuno non ci vediamo sabato ci vediamo magari prossimamente e comunque eh un buona una buona prosecuzione di di Quaresima. Con tutti gli altri a sabato mattina per pregare insieme ai Santi Quattro. Grazie e buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie.